Musica Ciao, sono Leonardo Rubaltelli della rubrica Kitchen Travel. Ho preparato insieme allo chef Marco Parizzi un risotto ai funghi. Hai visto che è brava? Due o tre persone al mondo più bravi di te, ma non di più. Le pinze sono i migliori amici dello chef. Preferisco i cani, però... Massimo eh! Nooo! Se vi è piaciuto votate per me! Ciao a tutti, sono Erika Ferreri ed ho cucinato con lo chef Mattia Barciulli i pici al guanciale. Questo è esagerato ora! La prossima volta te lo porti a casa eh! 80 grammi! Ma che sei a dieta? No no, butta butta, io ho fame! Se la mia ricetta vi è piaciuta e volete che vada in finale, votate per me! Saluecu. No no no. Che si no to! Ne speciò.